Amici di Avriai, ben ritrovati come ogni settimana al Cinema News, il settimanale di informazione cinematografica che vi racconta tutte le novità più importanti del mondo del cinema. Iniziamo questa settimana con una news riguardante il prossimo film di Robert Rodriguez, ovvero Alita Battle Angel. Collider ha svelato infatti che la protagonista sarà Rosa Salazar, già vista in Maze Runner la fuga. La notizia secondo il sito dovrebbe essere ufficiale al 100%, anche se manca ancora la conferma degli addetti ai lavori. Alita Battle Angel sarà l'adattamento cinematografico dell'omonimo celebre manga del 1990. Non si fermano gli adattamenti cinematografici tratti da videogiochi. Dopo Assassin's Creed, che arriverà a dicembre nelle sale, ci occupiamo stavolta di Tom Clancy's The Division. Variety svela infatti in esclusiva che l'attore Jake Gyllenhaal sarà protagonista e produttore del progetto, che tuttavia non sembra essere al momento collegato ad uno studio, né aver arruolato uno sceneggiatore o un regista. Non è la prima volta che Jake Gyllenhaal fa il suo ingresso all'interno del mondo dei videogiochi, è stato infatti protagonista di Prince of Persia. Lionsgate ha annunciato che una delle pellicole più interessanti dello scorso anno, ovvero Sicario di Denis Villeneuve, avrà un seguito. La grande novità è tuttavia che a dirigerlo sarà chiamato uno dei registi italiani del momento, ovvero Stefano Sollima. Il seguito di Sicario vedrà il ritorno di Benicio del Toro e di James Brolin, anche se non quello di Emily Blunt, e sarà intitolato Soldado. Sollima è stato richiamato alla regia dopo che Denis Villeneuve aveva rifiutato di fare un sequel, sicuramente quindi una grande eredità da prendere in mano. Vedremo se il regista italiano sarà all'altezza. Si parla ancora di Batman vs Superman, nonostante il film sia già uscito da diversi mesi nelle sale. Stavolta però a parlarne è un personaggio d'eccezione, ovvero Jeremy Irons, che ha partecipato al film nei panni di Alfred, il maggiordomo di Batman. L'attore ha fatto scalpore questa settimana dopo aver parlato di Batman vs Superman in un'intervista. Irons ha infatti spiegato che il film si meritava, secondo lui, alcune critiche negative. Ha dichiarato infatti che la pellicola era piuttosto confusa e che il prossimo invece sarà più semplice perché lo script sarà più piccolo e lineare. Jeremy Irons ha anche confermato che parteciperà ai prossimi film stand alone su Batman. Dopo numerosi rumors sull'attrice che dovrebbe interpretare Capitan Marvel, stavolta sembra davvero che ci siamo. Variety ha infatti confermato che sarebbe in trattative Brie Larson, neo premio Oscar per Room. Il sito spiega che anche se non è chiaro come siano donne le trattative al momento, i Marvel Studios sembrano essere interessatissimi ad avere Brie Larson nei panni di Carol Danvers. Se scelta, l'attrice darà il volto al personaggio nel suo film stand alone e anche in Avengers Infinity War. Capitan Marvel tuttavia continua a non avere un regista confermato. Anche questa settimana si parla di Walt Disney Pictures che ha confermato questa volta il sequel di Mary Poppins. Il nuovo film si intitolerà Mary Poppins Returns e sarà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 25 dicembre 2018. A vestire i panni della famosa tata troveremo Emily Blunt. In questo sequel vedremo Jane e Michael Banks ormai diventati grandi. Dopo una grave perdita Mary Poppins farà ritorno da loro e grazie alla sua magia riuscirà a far tornare la gioia e la meraviglia che si erano perse nella loro vita. Per quanto riguarda il film della settimana, vi consigliamo stavolta qualche risata in più con The Nice Guys con protagonisti Ryan Gosling e Russell Crowe. Improbabili e irresistibili protagonisti di una action comedy frizzante e dinamica, Russell Crowe e Ryan Gosling assicurano divertimento in una rocambolesca a Los Angeles anni 70 in cui giocano a fare i bravi ragazzi. Il regista e sceneggiatore Shane Black mette insieme quindi due volti del cinema hollywoodiano per regalarci una commedia goliardica e frizzante su due irresistibili poco di buono che cercano di redimersi. Dialoghi frizzanti, dinamismo della messa in scena e un'irresistibile coppia servono a dovere questa action comedy perfetta per una serata al cinema, dove la quota di risate è senz'altro assicurata. Per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con R.I. Cinema News. Grazie a tutti.